Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora oggi andremo a vedere come si costruisce un calendario dalla la zeta comprensivo di tutte le colonne che possono servirci per lavorare in un report quindi conversione partendo dal campo data avremo la settimana, il mese, l'anno settimana e così via insomma e lo creeremo completamente utilizzando Power Query quindi non ci appoggeremo a nessuna fonte esterna e non lo creeremo utilizzando Excel, lo creeremo proprio con il codice M all'interno di Power Query quando avremo fatto questo vi faccio vedere un sistemino per esportare la nostra query di Power Query in un file fisico quindi la nostra query diventerà un file fisico che poi potremo richiamare in qualsiasi altro file senza dover rifare il lavoro da capo perché Power Query appunto permette anche di esportare tutti i passaggi che facciamo nelle nostre query in un file specifico che poi è facilmente importabile su altri file per recuperare appunto il lavoro che abbiamo fatto allora prima di vedere il file di esempio volevo presentarvi questo signore qua Kling Klang che è Enrico Enrico Galli che da cui ho preso praticamente lo script qui su forum excel.it ha praticamente fatto un'introduzione alla BI facendo vedere lo staschema come si relazionano le tabelle e un po' di cose interessanti dopo trovate questo link di questo post qua lo trovate anche nel video sotto in descrizione se volete andare a darci un occhio che comunque vi consiglio e praticamente nell'ultima nell'ultimo post qui lui mette un codice dove va appunto a creare un calendario con tutte le colonne che possono servire io sono partito da questa base qua e ho praticamente modificato solo questa prima parte qua facendolo in un modo un po' diverso che adesso vado appunto a spiegarvi il resto l'ho reciclato così mi ha risparmiato un po' di tempo allora grazie ancora Enrico e passiamo al nostro file di esempio ok se vedete qui andiamo menu dati quale connessioni qui ho praticamente vedete la query di calendario che appunto ho tutto il mio calendario vedete qui c'è un po' tutto quello che creiamo in power query e poi ho questa query qui che mi serve solamente per spiegarvi un po' come funziona il primo passaggio come vedete nel mio foglio excel non c'è niente quindi facciamo tutto in power query perfetto andiamo nel nostro editor di power query e andiamo a vedere appunto il nostro calendario vedete la sorgente parte da una formula adesso andiamo qua che così vi spiego bene la prima la prima riga che è interessante facciamo uno zoom praticamente io qui che cosa faccio allora beh per fare ovviamente una query si fa quando dovete fare queste cose qua dal menu home si va su nuova origine da altre origini query vuota così voi create una query quando avete fatto la query vuota andate nel menu visualizza editor avanzato e qui vi trovate appunto il let e l'in e qui iniziate a scrivere appunto la vostra formula che adesso andiamo a vedere nel dettaglio allora vediamo un po' che cosa ho combinato col primo passaggio che ottimizzazione ho fatto rispetto al codice di enrico allora io qua faccio praticamente ha fatto questa cosa qua perché vedo vedete portato qua poi entro con la parentesi faccio questo e poi entro e faccio questo anni data sono tre formule anni date praticamente io qua come potete vedere sulla sinistra praticamente sto estraendo vedete oggi è il 26 6 nel momento in cui sto registrando questo video e sto estraendo praticamente gli ultimi sette giorni chiusi rolling con questa formula qua quindi estrago sempre gli ultimi sette giorni quindi come faccio a calcolare questa cosa qua faccio una lista di date quindi list punto date e come funziona apro la tonda poi cosa dico aggiungi dei giorni con questa funzione quindi date punto ad days serve per aggiungere dei giorni a una data che li passo come parametro apro la tonda e poi gli dico data time punto data che serve per convertire il data time punto local now ok aperta chiusa tonda qui genero un data time quindi data più ora invece io come vedevamo dal risultato solo la data e ho bisogno solo della data quindi prima per avere la data di oggi ok devo sempre scrivere data time punto local now aperta chiusa tonda quando ho fatto questa cosa qua la devo convertire solo in data non esiste al momento una funzione che mi restituisca immediatamente la data devo sempre partire dal data time ok e qui faccio appunto data time punto date ok e chiude qua così io qua ho la data di oggi da qua esce appunto 26 6 2020 poi qua gli ho detto appunto date punto ad days ok quindi quando ho calcolato gli ho detto guarda parti da oggi qui li sto dicendo che parto dalla data di oggi faccio una virgola per dare il parametro successivo che chiede date a days e aggiungo o sottraggo i giorni in questo caso faccio meno 7 quindi parto da oggi e conto meno 7 quindi appunto da oggi finirò al 19 ok di giugno fatta questa cosa qua io ho trovato la data che è il 19 di giugno quindi da list date cosa li dico ok qui se li sto dicendo praticamente da qui parti dal 19 di giugno poi faccio la virgola perché sto continuando con questa funzione perché la prima cosa che devo fare è definire una data di partenza ok che è fatto da questo script qui e poi col 7 li dico ok da quella data di partenza che ti do quanti giorni vado avanti per crearti la lista e li dico 7 quindi vedete da 19 faccio 1 2 3 4 5 6 7 e vado a 25 che è appunto ieri ok poi gli devo dare un ultimo parametro adesso vi spiego che cos'è praticamente per far funzionare list date la la durata allora questa cosa qua significa che se io metto 1 dalla data di partenza ok aggiungo sempre un giorno mentre eseguo questo questo incrementale qua quindi vado a restituire 7 valori aumentando partendo dalla data di partenza sempre di un giorno se qui ci metto 2 ok vediamo cosa succede vedete lui qui non fa più un incrementale di un giorno ma mi fa 19 21 23 25 e così via ok quindi quel questo numeretto qua il primo indica appunto l'intervallo con cui vogliamo crescere la nostra lista questo è il giorno questo qui se lo toccate sono le ore quindi per dire se io qua ci metto uno zero e qua ci metto un 24 è la stessa cosa se ci metto 12 giusto per farvi vedere e do l'ok vedrò che ho due giorni uguali perché va avanti di 12 ore alla volta ok adesso io sto lavorando con una data non con un data time quindi lui comunque lo calcola nel modo corretto quindi dicevamo appunto che qua ci mettiamo zero perché ragioniamo con i giorni questi sono i giorni questi sono le ore questi sono i minuti e questi sono i secondi se vi dovesse servire poi niente chiudo appunto la mia la mia lista con questa parentesi e ho appunto creato la mia lista partendo da una data variabile quindi domani partirà dal giorno 20 domani l'altro partirà dal giorno 21 questa cosa qua mi fa una lista rolling in automatico partendo dalla data di sistema ok capito come funziona la formula semplice con i sette giorni rolling andiamo a vedere come ho gestito quella del calendario sul calendario parto del 2019 e arrivo fino a fine 2021 adesso qua ho raggiunto i mille valori quindi non mi arriva fino in fondo ma comunque strago sempre anno precedente anno corrente e anno successivo che più o meno sono sempre è sempre l'intervallo di tempo che si utilizza quando si usa una tabella del calendario ma sarà anche molto facile per voi cambiarla se ne avete bisogno quindi andiamo nel codice m vediamo come ho fatto questo passaggio adesso faccio uno zoom praticamente la formula ovviamente la stessa ho solo fatto in modo differente questa cosa qua vedete qui è il giorno da cui inizio quello che vedevamo prima perché faccio sempre la lista di date i giorni che vado aggiungere che sono appunto questi ok e qua da che data parto quindi parto sempre dalla data di sistema la converto in date quindi è tutto uguale a prima poi qua noi scrivevamo al posto di questa cosa qua che vedete qua scrivevamo meno 7 perché partivamo appunto dalla data oggi andiamo indietro di 7 giorni invece qua devo andare indietro del dei giorni dell'anno corrente e di tutti i giorni dell'anno precedente in modo da partire sempre dal primo gennaio 2019 quindi però la data di sistema ovviamente ogni giorno cambia quindi io non so se sono nel giorno 160 se sono nel giorno 180 mentre calcolo questa cosa qua quindi come si fa a fare questa cosa qua io gli dico date punto day of year ok questa funzione qua mi restituisce in che numero del giorno mi trovo oggi dandogli la data di riferimento che è la data di sistema come vedevamo sopra sempre data time punto la calnau ok io da qua tiro fuori che siamo nel giorno ipotizzo 166 nel giorno 167 e faccio un più uno perché poi cosa faccio e gli metto un negativo ok perché qua mi dice mi dirà ad esempio che sono mi trovo nel giorno 166 però noi dobbiamo andare indietro per partire dal primo gennaio 2019 rispetto oggi che siamo nel 2020 quindi metto questo numero qua lo faccio diventare negativo con questo meno qua ok quindi diventerà meno 165 e qua aggiungo un giorno in modo da non trovarmi a partire dal 31 dicembre 2018 ok questo mi serve solo per questa cosa qua altrimenti partire dal 31 dicembre 2018 e qui cosa faccio gli dico anche ok fai anche meno 365 che sono i numeri di giorni che compongono un anno quindi qua sottrago un anno e faccio ancora meno quindi andrò da a sommare 365 con 165 che uscirà circa 500 quello che è ok quindi lui farà data di sistema da oggi va indietro di circa 500 giorni ok questo risultato mi porta sempre ad avere il primo gennaio dell'anno precedente ok se qua ovviamente ci metto un altro meno 365 mi ritroverò a partire dal primo gennaio 2018 ok poi quanto vado avanti anche qua è cambiato un pochino qua noi dicevamo prima sette giorni allora qua ho fatto una cosa molto semplice ho detto guarda vai avanti perché parto dal primo gennaio 2019 quindi mi vai avanti di 365 giorni per il numero di anni che voglio andare avanti quindi ho fatto una moltiplicazione posso stare qua a farmi il conto dei giorni quindi se voglio andare avanti di 4 anni partendo dal primo gennaio 2019 ci metterò il 4 ok se lascio il 3 arriverà fino al 31 dicembre 2021 e poi duration è come vedevamo prima e basta ok quindi qui appunto andate a mettere gli anni che volete andare avanti dalla data di partenza che è appunto questa anche qua potete mettere la moltiplicazione se volete l'importante è che è appunto partiate sempre dal punto in cui vogliate perfetto fatto questo gli do appunto l'ok e se vado in source ecco che ottengo un elenco praticamente vedete che qui esce l'elenco quindi cosa ha fatto adesso questi passaggi li ha fatti tutti Enrico lui ha convertito come vedevamo nella precedente lezione ha convertito con table from list partendo dalla sorgente ha scritto la cosa che vedevamo nella precedente lezione ha convertito la lista in una tabella poi era rinominato ha messo il campo in formato data e poi con l'intellisense con le formule già pronte del nostro bel sistema power query o magari anche utilizzando colonna ad esempio è andato a compilare appunto tutti questi passaggi molto velocemente e qui abbiamo ottenuto un punto un po tutte le dimensioni calendariali che tendenzialmente si utilizzano all'interno di un report questa tabellina qua nel corso di power pivot intermedio la utilizzeremo tantissimo come tabella di calendario quando andremo a costruire lo star schema adesso per adesso ve lo accenno solo come nome ma poi nelle prossime lezioni andremo a capire meglio che cos'è questo fantastico star schema che ci semplifica la vita e ci fa fare cose potentissime quindi ecco qua questa è la tabellina adesso come vi dicevo prima andiamo in excel vi faccio vedere come portarla su un file nuovo senza dover star qua rifare tutto ogni volta ovviamente un passaggio sarebbe entrare copiarsi l'M creare la query inserire l'M a mano con un copy in colla però è un po macchinoso se io faccio tasto destro sulla sulla mia query ok qui trovo esporta file di connessione eccolo qua io premo qua ok vado ad esempio nel mio desktop corso ok vedete qui ho query calendario punto odc e adesso la salvo l'ho salvata nel mio percorso adesso questo lo chiudo ok e adesso andiamo a importarla ad esempio in questo file vediamo se abbiamo già qualcosa vedete qui ho vabbè ho una tabellina comunque andiamo a importare la nostra la nostra connessione che abbiamo fatto con l'altro file quindi andiamo nel menu dati andiamo su questo bottoncino qua connessioni esistenti ovviamente occhio che se avete l'excel piccolino può essere che il bottoncino lo vediate così ok recupera i dati tramite una connessione esistente si apre questa cosa qua allora qui vi fa già una proposta di quello che avete fatto di recente ad ogni modo qui c'è un bottoncino sfoglia e qui andiamo a cercare la nostra connessione quindi io l'avevo salvata qua vedete query calendario punto odc qui faccio apri ecco che lui mi propone ecco qua questa connessione cosa lì vuoi fare adesso io la creo in sola connessione ok faccio l'ok ecco che lui in un attimo la connessione che io ho creato con power query nell'altro file e ho esportato come file l'ho importata anche in questo modello tanto è che se io adesso entro appunto nell'editor di power query ecco che mi trovo qui la connessione con tutti i passaggi fatti quindi questa tecnica è veramente interessante perché potete andare ad esportarvi dei modelli molto velocemente e importarli su altri file con altrettanta velocità attenzione che se fate dei join tra le varie tabelle poi andate a esportare tutto potrebbe essere che avete qualche problema con i join perché ovviamente quando li tirate fuori ci sono i link tra le tra le varie query potrebbero saltare però questa tecnica è veramente molto utile a passare di file questo tipo di query dove i passaggi sono tutti su se stessa praticamente bene con questa lezione è tutto come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like così mi aiutate a far crescere il canale trovate il file di esempio sulla descrizione anche il link della pagina del post di enrico e ci vediamo la prossima lezione a presto ciao